ola a tutti sono tsunami e benvenuti in un nuovo video il secondo episodio di one punch è stato molto più divertente indubbiamente ma soprattutto dalle poche scan che ho letto fedele al manga secondo me è abbastanza inutile continuare a dire episodio dopo episodio che la qualità dei disegni e delle animazioni è drasticamente calata perché è una cosa oggettivamente innegabile e ovviamente ne parleremo però dal mio punto di vista one punch man è one punch man è uno dei pochi anime che seguirei anche se lo disegnassero e animassero su paint e in questo secondo episodio ho notato una serie di perle interessanti che sarebbe davvero un crimine nei confronti dell'umanità non andare a approfondirle insieme iniziamo con l'eroe pompato tank tanga questa però è una cosa che non avevo notato già dal primo episodio ma solo ora vedo che quelli sono dei peli del naso cresciuti per creare questi baffi a manubrio geniale quando me ne sono accorto sono morto sono rimasto tra lo schifato e il contemplarli in segno di rispetto e stima per chi ha avuto questa idea geniale è da tanto o addirittura è proprio la prima volta che in one punch man vedo così tanto sangue e soprattutto scene un po splatter quando gero strangola deforma e fa saltare il braccio dei vari eroi di classe a e tra l'altro bellissimo quanto uno di quegli eroi si impegnasse a fare tutti i gesti con le mani quando in realtà aveva semplicemente un lanciafiamme sotto la manica wonderful ammetto che mentre saitama giocava a quella specie di psp mi ha preso veramente un'inquietudine nel vedere come tre masse sembrava quasi avesse il parkinson quando in realtà penso sia una tecnica stilistica comunque un artificio utilizzato per evitare che l'immagine sia troppo statica e tra l'altro poverino ancora di più non solo ha il parkinson ma anche dovuto scoprire che genos ha un proprio fan club rip saitamino poi ho riso più del dovuto quando tormenta la sorella di tornado è andata a fare quella specie di battesimo del fuoco a saitama e sembrava dalla scena lo so che sono deviato probabilmente l'avete anche capito dalla intro di questo video che saitama le avesse sbattuto la porta in faccia ma ad ammazzare qualunque tipo di serietà ci pensa comunque proprio tormenta che durante il combattimento se nasce con frasi talmente banali e inutili da ricordarmi il film di death not uscito su netflix un dio che fa cagare sotto i cattivi finché non vorranno più essere cattivi inoltre che tristezza vederla usare tante tecniche di telecinesi e poi all'improvviso cacciare un taglierino per attaccare saitama come woman che poi scusami ma sto taglierino non glielo potevi lanciare addosso sempre con una tecnica di telecinesi poi la sua faccia quando scopre che genos eroe di classe s su allievo e che conosce pure king è veramente impagabile tornando a parlare delle animazioni sono rimasto un po perplesso quando sonic il supersonico durante il combattimento con genos ha fatto quella specie di salto da un lampione distruggendo nella luce ora io non so se nel manga fosse proprio così ma vedere la luce che si rompe con delle animazioni fatte così coi piedi mi ha lasciato un po perplesso sinceramente mi ha fatto abbastanza schifus e non so se fosse un qualcosa per rendere più immersivo lo scontro però se decidete di animare quei due frame in questo modo meglio evitare che poi parlando sempre di sonic devo dirlo il personaggio mi piace un sacco sia come cara design che in generale mi sta simpatico però non ho capito come mai questo ninja dall'armamentario e dalle tecniche davvero molto fighe debba apparire come un super ultra iper archi gay quando schiva gli attacchi di genos sembra che fa dei passi di danza classica poi le inquadrature su quei glutei sodi persino quando usa la tecnica dello sdoppiamento la silhouette che ne esce sembra una donna che poi dai persino quando saitama lo sconfigge con un semplice spostamento d'aria lui cade a terra in una posa abbastanza equivoca e con i vestiti a brandelli sei gay basta dirlo non siamo mica omofobi siamo piuttosto misogini nei confronti di tormenta che per ora si è dimostrata la worst waifu di one punch nonostante un fisico della madonna davvero per ora mi sto un po' antipatica mi dispiace spero che abbia uno sviluppo più interessante nei prossimi episodi per concludere dobbiamo dedicare un minuto di profondo e sentito silenzio per le scarpe scelte da dolcetto musk in pelle di coccodrillo no proprio no ed infine dieci minuti di applausi per la scena dopo la ending quando si vede garo che sconfigge un eroe di classe a tank top vegetarian ed esclama non sei stato né carne né pesce carne pesce tank top vegetarian quanto mi piace il no sense lo squallore con quel tocco di english humor che non guasta mai french toast non c'entra niente ma lasciamo stare come detto a inizio video per me one punch man rimane sempre one punch man spero che episodio dopo episodio budget e studio permettendo vada comunque a migliorare sotto le vesti grafiche ma per quanto mi riguarda lo si ama incondizionatamente qui è tutto da tsunami spero che questi focus on su singoli episodi vi stiano piacendo come avevo già detto nel video di demon slayer anche se a breve posterò un mega riassuntone di tutti i primi episodi che erano troppo brevi per portarci singoli video riguardo e quindi facciamo questa sorta di anime in poche parole anche se come special per i 30.000 iscritti è un piccolo spoiler ma vabbè sto preparando un anime in poche parole con i controcazzi tac apericenino figa uno special di qualità che spero possiate apprezzare grazie ancora a tutti coloro che mi seguono un particolare grazie ai miei patrons che mi supportano sempre così direttamente e diamo il benvenuto alla nuova mia mecenate arianna grazie di cuore e noi ci vediamo a breve con nuovi contenuti sto riuscendo da quasi da oltre un mese a questa parte a caricare uno o più video la settimana non so proprio come stia trovando la forza la voglia il sonno ciao ciao ciao